Buongiorno e ben ritrovati a Di Prima Mattina. Oggi è martedì 31 ottobre, siamo in diretta con la nostra rassegna stampa per leggere insieme gli ultimi aggiornamenti della cronaca nazionale ed internazionale, le notizie quindi dal web e poi invece ci concentreremo sulle notizie di casa nostra, quelle regionali pubblicate sui quotidiani locali, come sempre daremo uno sguardo insieme al messaggero e al centro. Un buongiorno anche da parte di Giancarlo Rapagnà in regia. Iniziamo quindi subito la nostra rassegna con le notizie dal mondo, gli aggiornamenti web. Siamo sul sito dell'Ansa, la home page, ci sono ovviamente le ultime notizie che arrivano da Israele, dal Medio Oriente. Raid notturni di Israele sulla striscia di Gaza, i morti sono almeno 50. Vediamo subito, c'è un problema di connessione, vediamo se possiamo andare avanti spostandoci con la DN Kronos, altra agenzia di stampa nazionale che vedete anche punta sullo stesso tema. Israele, guerra lunga a Damas, no accessate il fuoco, nodo ostaggi, il quadro delineato dei vertici israeliani, mentre l'operazione di terra si espande nella striscia di Gaza. C'è stata una conferenza stampa, un discorso di Netanyahu alla nazione, il premier israeliano ha detto no al cessate il fuoco. E' il momento della guerra, ma c'è in ballo la sorte degli ostaggi in mano a Damas, l'organizzazione palestinese ha diffuso un video in cui parlano tre degli ostaggi israeliani che di fatto accusano lo stesso Netanyahu. Dicono, lanciano un appello, aiutateci così ci uccidono, mentre Israele libera una donna soldato. Dalle home page dei siti e dalle prime pagine dei giornali però si desume l'altra notizia del giorno, l'altra notizia delle ultime ore, che è quella relativa alla manovra con l'ok di Mattarella per l'invio alle Camere, l'annuncio e il comunicato da parte della Presidenza del Consiglio con l'accordo trovato sul testo definitivo della manovra che dunque può approdare alle Camere in Parlamento per l'approvazione. Il testo è composto di 109 articoli dall'acedolare per gli affitti brevi, all'IVA sui pannolini, testo bollinato dalla ragioneria dello Stato, confermata la scomparsa dei riferimenti a pignoramenti per quanto riguarda i conti correnti. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero, ci arriviamo subito in attesa che si carichi, c'è qualche problema con la rete internet questa mattina, quindi potremmo avere delle pause, dei blackout ogni tanto, ma ci siamo, siamo sulla home page, sulla prima pagina dell'edizione nazionale del Messaggero, l'apertura è proprio per le novità della manovra, accordo blindato, questo è il titolo d'apertura, vertice a Palazzo Chigi, meloni agli alleati, nessun emendamento e il testo va in aula. Per quanto riguarda gli affitti brevi, la tassa sale al 26%, l'acedolare secca sale al 26% solo a partire dalla seconda casa messa in affitto, per i pannolini l'imposta sul valore aggiunto, l'IVA aumenta al 10% e non al 22%, ma tra le categorie che sono pronte alla protesta c'è quella dei medici che vanno verso lo sciopero. A proposito del governo procede spedito verso la riforma costituzionale che riguarda l'elezione diretta del Premier, c'è l'intesa in maggioranza, in caso di crisi niente ai governi tecnici, il DDL costituzionale venerdì approderà in Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, Hamas e il ricatto con le donne rapite, liberate i jihadisti, appello a Netanyahu di tre ostaggi, così ci farai morire. Dramma che sta vivendo Gaza, non possiamo sfollare gli ospedali, dopo l'avvertimento da parte di Israele che gli stessi ospedali potrebbero anche essere oggetto di attacchi, visto che secondo l'esercito israeliano nei sotterranei si nasconderebbero i quartieri generali di Hamas. Andiamo ora a spostarci sulla prima pagina del messaggero Abruzzo, edizione regionale, così iniziamo con le notizie dal nostro territorio. C'è in apertura la cronaca con la tragedia stradale che si è verificata sulla Trignina, la morte di una bimba di soli dieci mesi e di un altro automobilista in un impatto frontale tra due auto, la piccola Amalia di dieci mesi di Fresa Grandinaria, paese del Chietino. guidava la mamma l'auto che si è schiantata contro l'altro mezzo, guidato invece dal ristoratore Alessio Amicone che ha perso anche egli la vita. Il padre della piccola di dieci mesi ancora non sa nulla, è in ospedale insieme alla madre della bimba e al fratellino, mentre la procura potrebbe disporre l'autopsia sia sulla bambina che anche sul ristoratore Alessio Amicone. e gli altri tre componenti della famiglia della piccola Amalia sono fuori pericolo, ma sono tante le polemiche sulla sicurezza stradale, soprattutto di quella arteria della fondovalle Trignina. Ancora sulla cronaca siamo nel Terramano, rissa davanti al Knight di Martin Sicuro, sei arresti da parte dei carabinieri. Tra un po' approfondiremo la notizia di ieri anche con il servizio che abbiamo realizzato per il nostro telegiornale J News. Per il momento finiamo sulla prima pagina del messaggero. C'è molto spazio per lo sport. Ieri ha giocato il Pineto nel campionato di Serie C, un altro punto d'oro per un solido Pineto. Ha pareggiato la squadra di Amaolo a Pesaro contro la Vis 1-1. Biancazzurri avanti con Teraschi, ma subito raggiunti, mentre per quanto riguarda il Pescara, l'Adriatico terra di conquista, soltanto un punto in quattro partite. C'è uno speciale lavoro dedicato al mondo del lavoro. Nelle pagine interne del messaggero caccia al posto, la selezione del personale diventa virtuale. Si parla della riforma dei centri per l'impiego voluta dall'assessore Pietro Quaresimale. Poi ancora per la cronaca aveva in casa una montagna di esplosivo giallo a penne, sequestro di oltre 100 kg di esplosivi, tra botti confezionati e altro materiale per il confezionamento appunto di oggetti esplosivi, un uomo nei guai, mentre all'Aquila sono comparsi manifesti con i fasci littori, scatta l'apologia di reato, anche scritte sui muri sotto inchiesta, 7 esponenti dell'ultra destra. Per chiudere con la prima pagina del messaggero, edizione sempre, siamo su edizione abruzzese, a Sulmona, droga non pagata, 3 in manette per il pestaggio. Tra un po' torneremo sulle pagine interne del messaggero, adesso invece andiamo a leggere insieme e a sfogliare le prime pagine delle quattro edizioni provinciali del centro. Siamo su quella di Teramo, Castelli, il commissario per la ricostruzione, dice la ricostruzione accelera, il punto del commissario nel settimo anniversario della scossa del 30 ottobre 2016 che distrusse principalmente Norcia, proprio ieri a Norcia la cerimonia per ricordare l'evento e Castelli ha detto segnali incoraggianti ma ancora troppi sfollati. A Teramo e Lutto per la morte dell'ex vicequestore romano, aveva 71 anni, fatale, un'infezione, i familiari presentano un esposto bloccato, il funerale. Di spalla, eccoci di nuovo, troveremo il titolo sulla indagine, l'inchiesta che ha portato a sei arresti tra Marche ed Abruzzo per il pestaggio a sangue dello scorso mese di agosto fuori da un night di Martinsicuro scatta il tentato omicidio. Allora, per ricostruire questa vicenda, ciò che è accaduto, come vi dicevo, andiamo a rivedere insieme il servizio andato in onda nel nostro telegiornale. Prende il nome dal locale notturno di Martinsicuro, all'esterno del quale si è consumata una violenta aggressione la notte del 2 agosto scorso, l'operazione Diamante, eseguita all'alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Alba Veriatica tra Martinsicuro e San Benedetto del Tronto, sei in tutto le persone arrestate tra i 21 e 48 anni e che a vario titolo dovranno rispondere di tentato omicidio. È pesantissima, infatti, l'accusa formulata dal PM della Procura di Teramo Enrica Medori che ha portato all'ottenimento da parte del GIP di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite questa mattina con l'ausilio dei reparti operativi dei carabinieri mentre un elicottero del nucleo di Pescara sorvolava l'aria a cavallo tra Abruzzo e Marche. Tutto nasce da quanto avvenuto intorno alle 4 del 2 agosto scorso quando una pattuglia del normo della compagnia di Alba Veriatica si è dovuta portare all'esterno del piazzale antistante Nightclub Truentino su richiesta del titolare. Un quarantene di Martinsicuro, dopo un litigio scoppiato per futili motivi era stato prima accerchiato e poi aggredito brutalmente picchiato con calci e pugni da sei uomini. Non paghi, i sei avevano colpito il quarantenne anche con delle sedie trovate fuori dal locale. Poco prima dell'arrivo della pattuglia si erano dati tutti alla fuga. L'aggredito ha avuto una prognosi di 90 giorni e gli approfondimenti clinici hanno evidenziato come le lesioni riportate gli avrebbero potuto procurare la morte. Preziose ai fini delle indagini sono state le testimonianze oculari e le analisi dei tabulati telefonici e dei filmati del sistema di videosorveglianza. Dei sei arrestati, tutti pregiudicati e già noti alle forze dell'ordine, cinque sono stati arrestati a Porto d'Ascoli e sono stati tradotti nel carcere di Ascoli Piceno e uno ad Alba Adriatica, motivo per cui si trova ora nel carcere di Teramo. Prezioso l'impiego samane del cane antidroga e antiesplosivo che ha permesso ai carabinieri di scandagliare il terreno limitrofa all'abitazione dell'arrestato di 48 anni affiliato a un clan calabrese e hanno ritrovato sotterrati un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola a brasa, due pistole delle quali una con matricola a brasa e un involucro contenente 10 grammi di cocaina. Questo dunque è quanto accaduto che ha portato all'arresto di sei persone. Proseguiamo con la nostra segna, torniamo sulla prima pagina del centro che dà conto anche delle novità che riguardano i vigili urbani di Giulianova. Ecco le pistole, consegnate le armi a 10 agenti, saranno possibili servizi notturni più lunghi nella prossima stagione estiva. A Roseto nella ditta salpa, che si occupa di prodotti alimentari, a fuoco la frigitrice rogo domato dai lavoratori. E poi c'è il richiamo per il pareggio prezioso conquistato ieri dal Pineto a Pesaro nel campionato di Serie C. Andiamo subito a spostarci sulla prima del centro, edizione di Pescara. Apertura con la cronaca, fondi europei, imprese sotto accusa. La finanza scopre tasse e vase, compensazioni illecite per 290 mila euro. Nella foto centrale l'anniversario del sisma di Norcia, così definito, quello del 30 ottobre 2016. Ancora troppi sfollati è quanto ha detto il commissario per la ricostruzione Guido Castelli. Disaggi che rimangono e permangono soprattutto nel Teramano. Sempre invece da Pescara, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, adesso il comune chiede scusa, ancora disagi per il porta a porta. L'assessore del Trecco ammette, è mancata l'informazione. È scattato in questi giorni il porta a porta nella zona sud della città, nella zona di Porta Nuova, ma ci sono ancora molte difficoltà da parte dei cittadini. Di spalla per la cronaca ritroviamo la notizia del pestaggio nel night di Martinsicuro e del conseguente arresto di sei persone, mentre nell'altro titolo c'è un episodio nel Chietino, giovane denunciata perché è entrata nella casa dell'ex fidanzato e ha devastato tutto, minacciando tra l'altro lo stesso uomo. Nel taglio basso, nello spazio dedicato al calcio, dopo i posticipi il Pescara scivola al quarto posto, vincono Perugia e Cesena, mentre il Pescara domenica ha perso in casa contro una re canatese, il Presidente Sebastiani commenta dicendo è un momento no. Andiamo avanti con la prima del centro di Chieti. Bimba morta, comunità sotto shock, la tragedia sulla Trignina con due vittime. I sindaci del Vastese si uniscono e dicono basta sangue, proprio perché su quella strada ci sono stati purtroppo negli anni numerosi episodi drammatici e vittime causate da incidenti stradali. Taglio alto, stiamo sulla prima pagina del centro edizione di Chieti e si parla proprio del capoluogo con la frana in via Arenazze e il Sindaco Ferrara che dopo un sopralluogo sul posto ha detto non si trova la perdita d'acqua. Vediamo qualche altro titolo. In taglio centrale distrugge la casa dell'ex fidanzato. Ecco quello che è accaduto, che avevamo letto poco fa. La 51enne si accanisce con un coltello su TV, letto, arredi ed elettrodomestici, minacciando anche l'uomo di morte. Per quanto riguarda il lavoro, San Salvo, la Denso, rispetti gli accordi e quanto emerge dall'Assemblea dei Lavoratori, dell'azienda che si occupa di automotive, vogliamo vedere gli investimenti. Mentre a Villa Santa Maria è ancora in ballo il futuro dell'alberghiero, oggi si decide sulla fusione tra scuole. Per il calcio di Serie D, Chieti domani già in campo, Chianese, l'allenatore, cambia ancora. E chiudiamo la nostra carrellata sulle prime del centro con quella dell'Aquila. Strappo in comune e rischio crisi. Trattativa arenata tra Forza Italia e Biondi. Oggi è il giorno della verità e ha annunciato anche una conferenza stampa da parte degli esperienti di Forza Italia per spiegare la situazione politico-amministrativa che di fatto sta mettendo a rischio effettivamente la tenuta della maggioranza biondi. Nel taglio centrale, a proposito di cronaca e di liti tra ex coppie, prima abbiamo visto come una donna abbia devastato la casa dell'ex fidanzato, in questo caso c'è un episodio analogo ma al contrario, ad Ocre, in provincia dell'Aquila, fa irruzione in casa della ex arrestato, viola il divieto del giudice ed entra con la forza, lei scappa e chiama i carabinieri. Quindi ancora numerosi episodi di violenza domestica anche in Abruzzo. Ad Avezzano invece droga trovata tra le scale del tribunale, un blitz delle forze dell'ordine scoperta da un cane poliziotto in manette anche un diciottenne. Torniamo all'Aquila perché c'è questo richiamo per poi un articolo ospitato nelle pagine interne sulla nuova casa dello studente che sarà pronta fra tre anni, mentre ad Avezzano torna a vivere la piazza del terremoto, aperti gli scavi. E questo è tutto per quanto riguarda il centro con le sue quattro prime pagine locali. Torniamo sul messaggero e andiamo alle pagine interne. Le pagine regionali con le iniziative e le attività dell'assessorato al lavoro, quello gestito da Pietro Conresimale, CV, curriculum, colloqui e selezioni. La ricerca sarà virtuale nella riforma dei centri per l'impiego e la regione prevede lo sportello online. Candidati e imprese potranno usare uno strumento più agile e mirato. Ci sono dei dati specifici sulle persone in cerca di lavoro in Abruzzo, anche per tipologia di ricerca e di utenza dei centri per l'impiego. E poi c'è un commento attraverso un'intervista a Conresimale che dice profilare e poi formare per incentivare le aziende. Così l'Abruzzo regge l'urto. Per i giovani abbiamo implementato i servizi di orientamento nelle scuole. Nella pagina seguente invece c'è un primo bilancio del turismo autunnale. In Abruzzo il ponte porta pochi vacanzieri e c'è Grimi di Confesercenti che dice cambiare il modello, bisogna migliorare promozione e strutture, afferma il presidente regionale di Assoturismo Confesercenti. Il tasso di saturazione degli alberghi poco al di sopra del 50%. Le pagine di Pescara differenziata. Anche il messaggero come vedete pone l'accento sui problemi legati all'avvio del porta a porta. Avanti piano, code per ritirare i kit e cassonetti ancora presenti. A porta nuova soltanto una famiglia su due ha ritirato il materiale per il porta a porta. Proteste per le lunghe attese e la carenza di informazioni da parte di Comune e Ambiente. che è la società municipalizzata che gestisce la raccolta differenziata. Nel taglio basso invece la presentazione del nuovo servizio di scooter sharing. Dopo bici e auto completa la flotta dei mezzi in sharing, anche questo mezzo su due ruote. L'assessore Luigi Albore Mascia presenta i primi 18 motorini elettrici. Potranno arrivare fino a 50 in dotazione anche due caschi. La cronaca, sempre da Pescara, fondi PNRR fuori regola alla metà delle imprese. La Guardia di Finanza scopre l'uso improprio di 290 mila euro per formazione e tecnologie. I crediti d'imposta utilizzati per altri scopi. La frode segnalata all'Agenzia delle Entrate. E poi il caso scoperto a Penne, in pieno centro cittadino. 300 kg di esplosivo in casa, un arresto, una villetta nel centro abitato trasformata in una polveriera. Alto il rischio di esplosione, l'irruzione dei carabinieri con l'appoggio degli artificieri. La zona, messa in sicurezza, poteva davvero avere conseguenze devastanti. Questo arsenale, questa polveriera detenuta in casa da Cristian di Ludovico. Questo è il nome dell'uomo scoperto con tutto questo materiale esplodente. Dovrà spiegare i motivi dell'attività, tra i sospetti anche il commercio clandestino. Andiamo avanti ed eccoci alle pagine dell'Aquila. Manifesti e slogan fascisti sui muri della città, indagate sette persone. Si tratta di giovani legati a Casa Pound che avrebbero agito durante le elezioni. Tra gli episodi contestati dalla procura anche l'imbrattamento della sede del PD. Sempre dall'Aquila, per le emergenze arriva una tenda che sarà centro operativo. Il comune ha deliberato l'acquisto da una società italiana specializzata. Tenda che, spiega l'assessore alla protezione civile Fabrizio Taranta, servirà per essere pronti a gestire qualsiasi tipologia di evento. Da Avezzano invece la notizia dell'Ascish trovato ben nascosto nelle scale del Tribunale. Stupefacenti occultati durante il blitz contro lo smercio destinato alla Movida. Durante un blitz nelle aree di spaccio, evidentemente qualcuno si era liberato della droga in possesso, nascondendola nelle scale del Tribunale, ma poi l'intervento dei cani della finanza hanno permesso di scoprire la sostanza stupefacente. Intanto gli avvocati, pochi tra parentesi, denunciano il Ministero che non rafforza il personale. A Sulmona, non lontano dunque da Avezzano, a proposito di droga, ha una spedizione punitiva per una partita non pagata. In tre tentano di strangolare un minore. Ci spostiamo su Chieti, via Arenazze, l'acqua è defluita ma la situazione resta delicata. Il Sindaco Ferrara ha riunito i tecnici. Ora puntiamo ad avere fondi per l'autonoma sistemazione perché è stato necessario sgomberare delle famiglie. L'assessore, chiedo scusa, il consigliere di opposizione Colantonio denuncia, via Pianella sprofonda, ma si continua a non fare la prevenzione. Nella pagina seguente invece la tragedia sulla Trignina, morte di Amalia. Il padre ancora non sa la verità stazionare le condizioni dei tre feriti. Forse sarà disposta l'autopsia per la piccola e per l'altra vittima dello schianto, il ristoratore Alessio Amicone. Tre comunità si stringono ai familiari delle vittime dello scontro sulla Trignina. E c'è la rabbia dei nonni, strada maledetta da giugno in 9 chilometri, 4 morti e 9 feriti. I numeri che testimoniano la pericolosità della strada. Teramo, commerciante pestato al night per una ragazza. In apertura l'episodio di Martin Sicuro, il 57enne di San Benedetto, ridotto in fin di vita a calci, pugni e sediate. Avrebbe fatto un apprezzamento ad alcune ballerine, arrestati tre italiani e tre stranieri. Il lutto in città per l'addio a Leonardo Romano, ex dirigente della questura di Teramo, morto ieri mattina. Poi andando avanti c'è nel taglio basso una denuncia che riguarda la sanità. Risonanza magnetica urgente, ma in ospedale non c'è posto. Una denuncia che arriva da un cittadino di Giulianova per quanto riguarda la risonanza magnetica nel nosocomio giuliese. Prima delle pagine sportive per chiudere la nostra segna stampa, uno sguardo rapido agli aggiornamenti dal web che riguardano l'Abruzzo. Sulla home page dell'Ansa l'apertura è per il fatto di penne, 100 kg di esplosivo in casa, arrestato un 45enne. La scoperta è fatta dai carabinieri, l'uomo ai domiciliari. Mentre da Pescara si dà conto del progetto Digi Muse, un progetto europeo per i piccoli musei che vede la fondazione Genti d'Abruzzo capofila. Andiamo invece sulla home page di Abruzzo web perché il sito aquilano dà ampio spazio alla crisi amministrativa, crisi politica nel comune dell'Aquila. Forza Italia è pronta ad uscire, nessun accordo per un posto in giunta. Tanto tonoche piove, si legge, al comune dell'Aquila la crisi si aggrava e Forza Italia è pronta ad uscire della maggioranza di centrodestra, riconfermata alla guida del capoluogo a giugno del 2022. Mentre per quanto riguarda l'economia, le norme e le misure della finanziaria arrivano bordate dal lancio Abruzzo contro il governo, il Benecasa preso di mira per fare cassa. E ora andiamo a chiudere con qualche titolo dalla pagina sportiva del messaggero. Ovviamente il calcio in primo piano, Pescara, l'Adriatico e terra di conquista, un solo punto nelle ultime quattro partite disputate sul campo amico, compreso il derby con il Pineto. Il centrocampo fatica a costruire e l'attacco a finalizzare, alcuni sono in un momento nero. Si viene riportata la notizia che sicuramente avrete potuto un modo di sentire e vedere anche su tutti i media nazionali. Fabio Grosso che ha rischiato un occhio, l'allenatore del Lione, per l'assalto del pullman della sua squadra da parte dei tifosi dell'Olympique Marseille in Francia. Photoshop sull'equipe, per fortuna il mister Pescarese se l'è cavata con 15 punti di sutura, palpebra colpita dai vetri infranti. Per quanto riguarda invece sempre la C, Pineto e Guerriero, altro punto d'oro, ieri a Pesaro 1-1. Il finale, vantaggio con Teraschi, la Vispesaro appareggia subito nel recupero espulso Tonti al suo posto della Quercia che ha anche salvato il risultato. Per la D invece l'Aquila, Epifani, fiducia a tempo, crisi in campo, rinforzata la squadra con Guarna e Del Moro. Mentre per quanto riguarda il Chieti, il pari e gli errori del portiere Antignani dopo tre giornate di squalifica tra i pali, ora torna Serra. Chiudiamo con il pezzo relativo al Teramo, campionato di eccellenza, la capolista Biancorossa. Il Teramo ora deve bucare la difesa dell'Angolana che sarà il prossimo avversario domenica a Città Sant'Angelo. E ci fermiamo qui con i titoli sportivi del Messaggero, finisce qui la nostra segna stampa, i prossimi appuntamenti alle 8 formattino a cura di Ferruccio Benvenuti, alle 9 invece a colazione questa mattina con la conduzione di Dorotea Mazzetta. È tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie per la visione!